Siamo negli ultimi giorni di campagna elettorale e racinale, il grido che si lancia dalla città di Crotone non può essere che l'appello al voto utile. Il 4 marzo saremo chiamati a questo appuntamento fondamentale non solo per l'Italia ma per la nostra regione soprattutto e ormai è chiaro che il consenso al centrodestra è l'unico che può garantire la stabilità di governo in questo paese. Chiediamo ai carabresi di condividere il progetto del centrodestra perché solo votando il centrodestra siamo sicuri di garantire la stabilità di governo. Oggi giochiamo in casa essendo di Crotone, quindi stiamo girando la provincia e tutto il collegio è lungo e largo e veramente sono entusiasta dei consensi che stiamo ritrovando in giro per il collegio. È chiaro che il messaggio che voglio lanciare oggi è la preoccupazione maggiore che è quello di evitare l'astenzionismo. Io dico di andare a votare, di andare a votare scegliendo chi si è esposto e chi ha dato un programma capace di risolvere le sorti di questa nazione.